Bene, bene, allora abbiamo chiuso la panoramica di tutti i prodotti di questi certificates della settimana con il nostro Riccardo Falconi che mi ha ricordato un po' i giocatori italiani nella premier degli anni 90 nella doppia funzione, allenatore e giocatore, così lui è stato professore e contemporaneamente studente lo abbiamo messo alla prova un po' su tutto e diciamo Pietro dai lo promuoviamo o lo rimandiamo a settembre? No, no, Riccardo è sempre promosso, devo dire, è sempre molto lucido nelle analisi e insomma è in gamba Ovviamente vi dice questo perché mi vuole bene Sì, vabbè, se no non lo chiameresti come Oscar Beh, ovvio Certo Ovvio Va bene, allora io so che tra l'altro voi siete riduci da un appuntamento importante di Tiforum di Rimini Vogliamo dire se negli ultimi settimane estive ci saranno altri appuntamenti che ci volete segnalare? Sì, allora, parto dai miei perché insomma Pietro comunque è sempre ripresissimo però noi abbiamo un webinar domani con Stefano Fanton è un webinar, l'ultimo webinar per il mese di giugno con Nicola Para il 29 di giugno so che Pietro invece è sempre presissimo insomma con i suoi appuntamenti online quindi non so se ha qualcosa che vuole segnalare nello specifico Guarda, se posso, piuttosto che gli appuntamenti online noi siamo già focalizzati, è un po' lontano ma noi già siamo sul pezzo sull'Investing Roma che è un evento a cui tengo molto che sarà il 6 ottobre e stiamo preparando un'edizione veramente particolare, piena di sorprese cambieranno tante cose quindi siamo già a lavoro su quello e quindi il 6 ottobre è una data importante per me Eh bene, allora noi, hai fatto bene a ricordarcelo, ce la cerchiamo sul nostro calendario ci aspettiamo cose spettacolari visto che insomma ce le hai preannunciate Pietro, ok? Mi sento di poterlo promettere con serenità a sorprendere anche questa volta Va bene, vedremo se riuscirà a sorprenderci anche questa volta Dai, io lo confermo perché l'Investing sono sempre due appuntamenti molto molto seguiti e frequentati Certo Diciamo che sono poi due appuntamenti che si svolgono in centro Italia che di per sé è comunque un po' dimenticata per quelli che sono gli appuntamenti di formazione e di trading perché la maggior parte degli eventi si svolgono a Milano quindi Pietro e il suo staff perché ricordo che comunque lo staff di Pietro è uno staff stupendo fatto di persone molto molto competenti e professionali hanno comunque, rendono possibile anche agli investitori che non riescono a raggiungerci a Milano di incontrare noi, di incontrare le trader in un panel diciamo di tantissimi relatori, esperti su vari strumenti finanziari, asset class, un po' di tutto quindi sicuramente diciamo chi viene porta a casa tantissimo valore aggiunto e poi ricordiamo Valentina è totalmente gratuito ma sicuramente un po' di cosa da fare in una zona appunto abbiamo detto centro-sud Italia in cui la cultura a livello economico finanziario non è così sviluppata invece come nelle regioni del nord ed è questo uno dei tanti gap, dei tanti dislivelli che dobbiamo cercare di colmare e sicuramente appuntamenti come questo non fanno che bene io vi ringrazio, ringrazio innanzitutto il nostro Riccardo Falcolini grazie per essere stato con noi grazie Valentina, grazie a Pietro, grazie a tutti per averci seguito e un saluto naturalmente anche al nostro Pietro Di Lorenzo grazie mille, un abbraccio e buona giornata grazie, grazie a voi bene io vi ricordo che questa puntata di Zoom Certificates la potete recuperare on demand sul nostro sito www.lefonti.tv e anche sul nostro canale YouTube mi raccomando l'appuntamento è a settimana prossima, l'ultima settimana del mese di giugno vedremo un po' tutte le novità per chiudere questo mese e proiettarci verso l'estate